e presto guarda faccio un bel giro e ne vado devo andare al lavoro un piccolo caffè beviamo ok sono salita sopra il forno ok posso tranquillamente uscire allora oggi devo fare devo andare mi ricordo più dove devo andare acqua ok devo andare qui ok allora so dove dove andare mamma mia perché mi arrampo così sono le 7.40 sto scherzando via 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 sono super tardi sono super tardi perché sto andando qua mamma mia però non sono scomodo camminare sempre su te ti puoi prendere la scala e buttarmi giù letteralmente a muso però mi dovrei lavare me li lavo adesso che rumore però comunque mi sono lavato i tempi e butto la e no devo rispettare l'ambiente cavolo faccio ecco qua lo prendo e lo butto in un bidone ok sono le 7 e 45 minuti per arrivare che abito la che la abito e cinque minuti per arrivare io pensavo ma magari che sia più bello bevo un altro caffè molto bello molto ma molto ma molto ma molto ma molto bello qua sembra una vista bellissima però il mondo deve essere più bello deve essere più reale però peccato che non è così ok ho finito il secondo caffè mi devo svegliare mi devo svegliare perché sono abbastanza allora quello lì ho sonno comunque dobbiamo sempre osservare la zona guarda che cavolo fai oggi è il tuo primo giorno di lavoro ho capito però guarda dov'è la maestra figlia trovatela no cosa niente niente va bene maestro di terra guarda maestra figliale che va bene ma guarda ti devo dare un cuore pronto ciao ciao questa qua ha sempre una voce dall'adotto pulire oh sto chiedendo gli occhi aspetta che devo arrivare ciao 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 amore come stai bene io bene grazie grazie maestro figliale oh dimmi scusami però non ti devi baciare con le tue amiche mentre stai parlando con il tuo dipendente è vero scusami ok però comunque cosa devo fare oggi e perché mi hai chiamato eh ma si vede non fai un cavolo io sono passato lì manco te lo sei accorto addormentato ci ha addormentato eh ma giù giù mi ha spinto il lega mi ha spinto oh mamma sole non posso aiuto aiuto devo chiamare qualcuno questo adesso passo la santa non prende il telepete non prende il telepete no 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 mi ha�ände la te pelo non prende il telepete call 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 via 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 viaaa adesso pesci bene è arrivato un aiuto qua c'è un fosso potete dire al comune di tollerlo magua signore questa qua deriva pure ciao mamma mia questa qua che è mia carolina ciao allora a casa quando ritorniamo a casa facciamo i conti perché non saluti tuo padre e vabbè devo andare a comprarmi la bossetta ma stai zi te non puoi andarti a comprare la bossetta mai proprio mai ti porto io